Allora vediamo l'ultimo argomento che ci serve per chiudere il capitolo sui database un argomento relativamente breve ma che ci risolve parecchi problemi di efficienza alcuni dei quali abbiamo già anche incontrato nei laboratori qualcuno di voi mi raccontava che quando chiamava le query al database quindi i metodi del DAO dall'interno della ricorsione succedeva spesso che il programma andava in crash perché Java non riusciva ad aprire altre connessioni al database in questo caso per un problema di Windows che limita il numero massimo di sockets che si possono aprire in una determinata unità di tempo ma questo è un dettaglio il fatto qual era? era che facendo moltissime query a distanza dall'avvicinata di fatto l'operazione principale che veniva fatta era sempre quella di aprire connessioni fare una query e chiudere la connessione e ci accorgiamo che però aprire la connessione a volte impiega più tempo che non farla query stessa quindi magari aprire una connessione impiega non so 30-40 millisecondi e farla query ne impiega 5 quindi l'efficienza ne soffre parecchio perché oltre appunto al fatto di aprire molte query inutili molte, scusate, connessioni inutili la maggior parte del tempo speso dal programma era proprio da aprire e chiudere connessioni e quindi la maggior parte del tempo il database stava idle e non veniva speso per fare veramente operazioni utili cioè fare le query che ci interessano questo problema ovviamente è stato riconosciuto tempo fa e esistono delle soluzioni per fortuna facilmente ingegnerizzate e quindi abbastanza facili da mettere a frutto l'idea è quella di dire poiché le connessioni in database sono una risorsa costosa e limitata costosa perché richiede del tempo limitata perché ogni database mi dà un numero massimo di connessioni possibili allora cercherò di aprirne di meno e possibilmente una volta che ho aperto una connessione anziché chiuderla subito dopo la tengo aperta e cercherò di riusarla dopo se dovrò fare delle query successive quindi l'idea qual è? l'idea è di non avere, come facciamo ora una connessione per ogni query cioè adesso cosa facciamo in un metodo del DAO? la prima cosa che fa un metodo del DAO è aprire una connessione fa un po' di lavoro e poi chiude questa connessione quindi abbiamo tantissime connessioni ciascuna per ogni chiamata del metodo del DAO che hanno una durata brevissima invece noi cambiamo modo di lavorare e creiamo un pool di connessioni quindi all'avvio del programma io apro, non so, 10 connessioni diverse e le tengo lì ho un mucchio, un pool, una riserva di connessioni pronte all'uso già aperte quindi ovviamente all'avvio del programma ci mettono 100 millisecondi un decimo di secondo per aprire tutte queste connessioni ma poi le ho lì aperte sono già aperte, sono già pronte sono in idle, sono in pausa e quindi quando io chiamo un metodo del DAO lui non ha più bisogno di creare una nuova connessione ma semplicemente dice guarda ce ne sono 10 libere e prendo una in prestito prendo una connessione in prestito ci faccio le query che devo fare dentro e poi quando il metodo del DAO ha finito di lavorare dentro questa connessione la rimette dove l'aveva presa quindi ho un certo numero di connessioni disponibili e ogni metodo del DAO ne prende in prestito una per il tempo che gli serve e poi la restituisce al pool questa connessione quindi dopo che il metodo del DAO ha finito di lavorare non viene chiusa per poi dover essere aperta un'altra volta ma viene semplicemente restituita al pool è un po' come quando andiamo a prendere in prestito qualche cosa e non lo stiamo acquistando non lo stiamo prendendo in prestito quando abbiamo finito di usarlo lo restituiamo e allora vuol dire che il tempo speso per aprire le connessioni lo pago una volta sola all'avvio del programma e mai più quindi se è vero che il tempo di connessione è più lungo del tempo di esecuzione della maggior parte delle query abbiamo guadagnato moltissimo ma abbiamo anche guadagnato tutto il problema del problema di TCP e IP di apertura dei socket eccetera eccetera che mandavano in crisi i programmi perché su una connessione è normalissimo mandare 10.000 query ma aprire 10.000 connessioni invece rischia di mandare in crisi il sistema operativo e il database stesso quindi noi stiamo su un numero limitato di connessioni già aperte e rimangono aperte stiamo generando un numero anche elevatissimo di interrogazioni ma questo va bene perché tutto sommato è il mestiere del database questa idea di connessione pooling è già ovviamente implementata supportata all'interno del JDBC attraverso un'interfaccia che si chiama data source noi conoscevamo il driver manager il nostro amico driver manager che ci serviva per fornirci una singola connessione un oggetto tipo connection adesso la differenza è che l'oggetto tipo connection non lo facciamo più generare ogni volta da zero dal driver manager ma lo facciamo gestire da questo data source data source ovviamente come sempre tutto in JDBC è un'interfaccia che corrisponderà a degli oggetti concreti reali che di fatto non ci interessa a un certo punto saranno poi implementati dalle classi specifiche del vendor che ovviamente implementerà un oggetto che implementa la data source noi non vediamo queste cose vediamo semplicemente un'interfaccia di tipo data source questa interfaccia nasconde il pool di connessioni quindi lei si comporta in modo simile a driver manager nel senso che quando gli chiede una connessione me la dà ma in realtà sotto dietro le quinte si gestisce da sola autonomamente un pool di connessioni delle connessioni di tipo condiviso qui c'è un esempio che avevo tratto da un tutorial che faceva vedere la stessa implementazione sull'esecuzione di un certo numero di query relativamente semplici il tempo impiegato nel caso di connection pool o nel caso di assenza di connection pool tempo necessario per interrogazione e qui si vede che quando io faccio 100 iterazioni la prima volta il programma ci mette una certa quantità di tempo 500 millisecondi se poi ripeto altre 100 iterazioni subito dopo beh queste avranno un tempo di esecuzione molto più piccolo perché? ma perché ovviamente la prima volta devo creare le connessioni non ne creo una sola ma ne creerò appunto magari 10 e quindi richiede un certo tempo poi una volta che le connessioni sono create ci faccio le query sopra ma quando rifaccio le query riuso le stesse connessioni non le chiudo mai fino alla fine del programma e quindi posso essere molto più efficiente e all'aumentare il numero di iterazioni vedete che i tempi si mantengono ovviamente con delle fluttuazioni statistiche ovviamente quindi diciamo ma perché 3000 iterazioni più veloci che 1000 e beh è un caso come sempre questi tempi così piccoli hanno ovviamente degli errori di misura che dipendono da che cosa sta facendo il computer in quel momento quello è il dato che è emerso se io invece non avessi un connection pool si vuol dire che per ogni query per ogni iterazione delle query devo aprire una connessione quindi vedete che eseguire le prime 100 query innanzitutto è più veloce è più lento perché magari dovrò 10 volte tanto perché dovrò fare 100 volte la creazione di una connessione anziché qua che l'ho creata 10 volte solo e poi ci ho lavorato dentro e poi alla seconda volta devo di nuovo creare da zero delle nuove connessioni quindi la seconda volta ci metterò di nuovo 5000 millisecondi anzi 4400 così come ne avevano implementate 5000-4800 prima perché non ho nessun effetto non ho nessun guadagno dalla seconda parte perché ogni volta che ho usato delle connessioni prima poi le ho chiuse e quindi dopo le dovrò riaprire e così quando decuplico il numero di iterazioni decuplica il tempo anche qua il tempo è decuplicato ma è decuplicato da 10 millisecondi a 50 millisecondi cioè da 5 a 50 una cosa di questo genere sono talmente piccoli che non si riescono neanche a misurare bene questi intervalli di tempo e mentre qua vedete che c'è una crescita lineare che dimostra che la maggior parte per le query semplici come molte delle interrogazioni che facciamo nel tipo di programmi che abbiamo noi nelle query semplici il fattore tempo è fortemente dominato dall'aprire di una nuova connessione e non dall'eseguire la query vera e propria quindi direi che c'è un effetto molto forte dai vari punti di vista ovviamente JDBC come sempre definisce solo delle interfacce poi ci vuole qualcuno che le implementi allora se voi andate a cercare tra le librerie gratuite open source che implementano connection pooling ce ne sono diverse noi ne abbiamo selezionate due di cui una proponiamo di usare ma sono le due tutto sommato semplici semplici da usare e tutto sommato ben funzionanti una che si chiama Ikari e l'altra che si chiama C3P0 la cui icona chiaramente è il robottino di Star Wars il cui nome della libreria ricorda ovviamente il nome del robot e l'altra libreria Ikari CP che sta per qualche cosa di leggero e veloce come diceva anche il nome dell'ideogramma su cui non chiedetemi altri dettagli perché Google Translate mi ha dato questo e mi sono accontentato di ciò noi useremo questa libreria Ikari anche se C3P0 va quasi altrettanto bene ma la trovo un pochino più semplice da usare cosa fa la libreria Ikari? la libreria Ikari fa implementa in connection pool per inserirla nel nostro programma ma noi ce l'abbiamo già diciamo così salvata dentro i progetti Maven ma è semplicemente una jar una libreria da scaricarsi lei è compatibile con tutti i driver JDBC si mette al di sopra del driver JDBC del vendor quindi noi abbiamo il driver di MariaDB sopra questo ci sarà Ikari mentre il driver di MariaDB mi dà l'oggetto driver manager Ikari mi dà l'oggetto data source e quindi fa sicuramente l'operazione di connection pooling ma fa anche un'altra operazione più furba che è quella di cache dei prepare statement quindi quando noi usiamo un prepare statement e questo è un altro motivo per cui usiamo sempre prepare statement e mai lo statement normale Ikari si ricorda tutti i prepare statement che ho mandato al database e se li salva quindi se io recupero nel mio programma eseguo una seconda volta lo stesso prepare statement l'esecuzione di questo sarà più veloce perché il database l'ha già precompilato è un'operazione che potrei già fare prima io io potrei tenere in Java gli oggetti prepare statement già pronti e non buttarli via però questo è un casino perché vuol dire che io devo salvarmi da qualche parte tutto un pool di oggetti prepare statement questo lavoro me lo fa già la libreria Ikari e quindi di fatto io posso lavorare normalmente con i miei metodi del DAO e se per caso richiamo lo stesso metodo del DAO la libreria Ikari si accorge che quel prepare statement l'ho già usato anche se con parametri diversi ovviamente non importa l'importante è che lo statement sia lo stesso e allora chiederà al database solamente più di eseguire la query e non più di fare la parsificazione e l'ottimizzazione dello statement che stesso questa libreria si porta dietro che qua nel nostro progetto Mavens andiamo ad aprire inserita qua Ikari CP e numero di versione si porta dietro anche altre un'altra libreria questo SLF4J che cos'è questa libreria? diciamo solo due parole facendo un minimo una deviazione è una libreria di logging quindi se io vado a vedere questa libreria che cos'è serve per fare appunto il logging dell'output fare logging significa andare a stampare dei messaggi sull'esecuzione del programma non necessariamente sullo standard output cioè noi quando abbiamo bisogno di stampare qualcosa mentre stiamo sviluppando ci viene da dire system.out.println e ci stampiamo qualcosa di sopra il problema è che chiaramente stampare tutto sulla console poi rischiamo di perdere dei messaggi quando abbiamo finito di fare debugging cancelliamo queste printline perché sono antiestetiche e poi dopo se c'è qualcos'altro che non funziona dobbiamo reinserirle allora non sappiamo mai se lasciarle se togliere se rimetterle eccetera esiste una soluzione diciamo così più sistematica di questo problema che è quello di avere delle librerie cosiddette di logging cioè di tracciatura ogni volta che voglio stampare qualche cosa anziché scrivere system.out scriverò logger.info se è un'informazione punto warning se è un warning punto error se è un errore eccetera eccetera esistono varie librerie di logging nel mondo java e questa libreria slfj 4j che sta per simple logging facade for java è una libreria che è compatibile con molte altre librerie esistenti sul mercato sul mercato anche gratuitamente per carità e quindi ci dà dei metodi uniformi che poi possono usare diverse librerie di logging vere e proprie e in particolare ne contiene già una diciamo così interna che è pensata per stampare su standard output perché dico questo? per due motivi uno perché ovviamente Icari ne ha bisogno la carica e quindi cerchiamo di capire che cosa sia ma il secondo motivo è che noi possiamo anche usarlo una volta che questa libreria è comunque caricata noi possiamo decidere nei nostri programmi se abbiamo bisogno di stampare delle informazioni diagnostiche stampare degli messaggi di errore da qualche parte anziché usare system.out.println possiamo crearci un oggetto logger e fare usare l'oggetto logger normalmente con il logger predefinito lui stampa comunque nello standard output ma mettendo invece dei logger più intelligenti quello lo può salvare su un file oppure mandare su un server diverso eccetera eccetera quindi c'è la totale flessibilità dei meccanismi di logging vedete che qua ci sono i metodi debug o info e poi in fase di configurazione possiamo decidere se far vedere solamente i messaggi informativi o anche i messaggi di debug senza modificare il programma andiamo a cambiare il livello di logging e quindi in questo caso questo logger debug se siamo a livello info non viene stampato ma rimane nel codice per cui quando avremo un bug e dovremo cercare di debaggarlo semplicemente riportiamo il livello di logging al livello debug e rivediamo di nuovo tutte queste istruzioni senza dover andare a commentarlo o a cancellarlo ogni volta quindi diciamo così nello sviluppo di applicazioni un po' complesse di solito si usano metodi di questo genere adesso poi questa libreria qua è abbastanza diciamo articolata diversi metodi soprattutto può appoggiarsi a diverse librerie diverse util.logging semplice una implementazione data dalla libreria Jakarta Logging eccetera eccetera vedete che questo slf4j si può integrare facilmente con molti altri meccanismi di logging quindi magari quando stiamo debaggando sulla nostra macchina semplicemente stampa in console quando invece lo mettiamo dentro un server dentro un sistema più complesso noi usiamo una libreria di logging più complessa e che poi magari manderà i dati o le informazioni da un'altra parte su un altro server questo ovviamente non dobbiamo oggi diventare degli esperti di logging solamente visto che comunque questa libreria se lo porta dietro se vogliamo lo possiamo usare anche nei nostri programmi dicevamo se usiamo il programma l'archetipo maven per creare i nostri progetti queste tre librerie cioè queste due librerie icari e slf4j sono già caricate sia la front end la façade cosiddetta quindi la façade è sempre una libreria che si mette in mezzo tra te e la libreria vera come parte di programmazione e l'implementazione simple della façade stessa che è quella che appunto stampa sullo schermo sul console come si usa questa libreria beh in modo molto semplice anche qua noi dobbiamo creare un oggetto data source icari data source con new questo oggetto ovviamente implementa l'interfaccia data source standard jdbc questo oggetto data source ha delle proprietà le proprietà essenzialmente sono le proprietà di connessione quindi la url di connessione lo username e la password per definire la connessione a questo link qua abbiamo tutte le informazioni dettagliate che ci spiegano i vari parametri di questo oggetto ma questa è la versione minima quindi importiamo icari data source creiamo un nuovo data source diciamo a quale server a quale indirizzo puntare e quale username e password a cui collegarsi e a questo punto la data source si inizializza e si connette il database e poi quando vogliamo creare una nuova connessione non chiameremo più driver manager punto get connection ma chiameremo get connection dell'oggetto data source questo fa sì che la get connection restituisca una delle connessioni che il pool ha già creato quindi dal nostro punto di vista get connection è sempre get connection semplicemente non lo chiamo più sul driver manager ma lo chiamerò sull'oggetto data source che ho creato e ciò che mi ritorna è un oggetto connection identico a quello precedente e quindi lo uso esattamente nello stesso modo questo vuol dire che se io vado a modificare solamente la classe db connect che avevamo nei nostri progetti che era quella che alla fine chiamava driver manager punto get connection e la sostituisco con queste quattro righe di codice o meglio nella creazione la prima volta devo creare data source le altre volte semplicemente devo chiamare get connection allora senza modificare neanche un punto e virgola neanche uno spazio dei DAO stiamo automaticamente usando un connection pool senza accorgercene semplicemente modificando il metodo che genera le connessioni questo è il motivo per cui nei progetti prima vi facevo una piccola classettina con un metodo minuscolo che si chiama get connection che chiamava all'interno driver manager punto get connection adesso buttiamo via quel metodo e implementiamo questo questo fa sì che semplicemente ogni volta che il nostro DAO chiama get connection in realtà chiamerà get connection del data source il quale gli darà in prestito una di queste connessioni ma poi il metodo del DAO che cosa fa il metodo del DAO usa la connessione perché il metodo del DAO farà dbconnect punto get connection e ottiene una connessione in prestito quando il DAO ha finito di lavorare con questa connessione normalmente fa connection punto close allora voi mi direte ma no non deve più fare close in realtà sì perché il metodo close della connessione viene qua ridefinito e anziché chiudere davvero la connessione semplicemente la restituisce alla data source quindi io devo comunque fare connection punto close nel mio DAO per far sì che la connessione che ho preso in prestito venga restituita al data source se non lo facessi la connection pool finirebbe le connessioni che ha disponibili per poter essere data in prestito quindi il DAO non cambia per nulla all'inizio chiamerà get connection e alla fine chiamerà close sulla connection che ho ottenuto la differenza è che la get connection del DAO come vedrete negli esempi di laboratorio da adesso in avanti userà il Icari per aprire le connessioni e non userà invece direttamente il driver manager come facevamo prima quando non conoscevamo ancora queste cose l'unico modo per chiudere davvero le connessioni è quello di chiudere il data source oppure c'è un metodo destroy che distrugge il data source e allora in questo caso tutte le connessioni che erano state aperte vengono sganciate dal database e vengono chiuse davvero questo volendo lo si può fare subito prima di terminare il programma ad esempio possiamo avere un metodo stop che viene chiamato automaticamente dall'application per chiudere le connessioni ma altrimenti vengono chiuse comunque quando il programma termina quindi non ce ne dobbiamo preoccupare particolarmente nel tipo di applicazioni che realizziamo noi quindi con questa dal punto di vista del codice con questa piccola modifica quindi sostituiamo al dbconnect precedente uno basato su Icari e automaticamente i nostri programmi andranno più veloci e non avranno più problemi nell'esecuzione di moltissime query non avranno più problemi di gestione di un numero elevato di connessioni ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che fare una query in database è comunque mille volte almeno più lento rispetto a leggere un dato da una struttura data interna quindi dobbiamo farle solamente quando serve cioè noi evitiamo di richiedere con tutte le ottimizzazioni del caso ma evitiamo di chiedere più volte lo stesso dato al database se in realtà ce l'abbiamo già no ma questo è un altro problema chiaramente di non fare operazioni inutili però la criticità che avete trovato e abbiamo anche discusso su Telegram con un paio di persone di errori di connessione si risolvono usando le versioni di dbconnect che troverete dal prossimo laboratorio in avanti quindi questa diciamo che da adesso in poi senza diciamo così particolari pensieri perché è una cosa che si mette sotto gestisce le connessioni fa tutto da sola semplicemente la usiamo e non ci pensiamo più grazie ancora e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti